Nome Nome Sono Mauro Masini Età Età 62 e tengo a precisare che sono un componente molto più anziano degli altri infatti l'età media del nostro gruppo è intorno ai 25 anni Di dove sei? Sono di Trento Nome della start-up? Aider Settore Ambientale Spiega in poche parole di cosa si occupa la start-up Ridurre l'inquinamento indoor per ottenere un'aria, una qualità dell'aria migliore attraverso l'utilizzo di elementi vegetali, cioè di piante che opportunamente selezionate e assistite da sensori che rilevano elementi di qualità dell'aria, tipo inquinanti e con questo mix insieme, gestito opportunamente, possa portare a un ambiente di lavoro migliore da questo punto di vista Cosa vi ha spinto a partecipare a Trentino Start-up Valley? E cosa vi aspettate? Ci consentirà di maggiori facilità nel raggiungere il nostro obiettivo Iscriviti al nostro canale